Salve ragazzi, bentornati in un nuovo episodio dedicato a questo gioco, chiamiamolo gioco. Allora, non mi ricordo che devo fare, sper- Oh! Oddio! Manca abbiamo iniziato- No! Che devo fare? Non mi ricordo! Datemi il tempo di capire che devo fare! Non mi ricordo che devo fare! Salta! Ma datemi il tempo di capire che devo fare! Manca il tempo di capire! Allora, Smigole è così lontano, dobbiamo andare là sopra, se non ricordo male. Ok. E qui ci sono i mostroni che devo evitare. Va bene, va bene, ho capito. Quindi devo salire lì sopra. Trovo un modo per accedere all'ascensione delle guardie e il crotalo. Quindi lì, probabilmente. Come faccio ad andare qui? Forse così? Corri, 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 porca miseria! Ma non salta! Perché non salta? No! Ah! Dove sono finito? Oddio! Mi vedono, ma non mi possono beccare da qui. Che fra l'altro non ho ben capito che mostri so. Stanno lì sopra, però ragazzi, io come faccio adesso? Non possono passare qua, quindi sto tranquillo qui, credo. Perché non posso? No, mi stanno raggiungendo! No! Oddio santo! Oddio, dove devo andare? Ah, forse sto andando bene così! Ho finito le energie! Vai che ce l'ho fatta! Ok, ce l'ho fatta. Non credo che salgano qua sopra. Ok, perfetto. Mamma mia, sono quattro adesso! Ok, ok. E quindi adesso che si fa? Forse devo salire là sopra. Proviamo. No, qua no. Ah, ecco qui. Forse devo salire qui. Vabbè, comunque io volevo capire un attimo che mostri sono. Il gioco non mi ha dato manco il modo... Ma che saranno mannari? Che roba è? Lupi giganti. Mannari! Immagino che siano dei mannari. L'unica alternativa valida. Ok. Ora. No! Vai, vai a destra. Ok, perfetto. Però io qui... Allora, in realtà il gioco mi diceva andare a sinistra, lì. In quel tubo. Ok, quindi no, dobbiamo andare di là. Quindi qui adesso devo fare un bel salto. Ok. Bravo, Gollu. Ok. Ci lasciamo andare e andiamo lì qui. Perfetto. Quanto ho anche salvato. E se lui ci osservasse, lo scuro signore, se lui ci vedesse... Non il piccolo Smeagol. Lui deve vedere tante cose. Montagne, nemici, spie. No, il signore sta cercando il tesoro. Lo vuole, lo brama. Ok, vabbè. I classici discorsi che il buon Gollum fa tra sé e sé. Che cosa sarà mai questa? È tipo... Un pozzo. L'altro si vede il cielo. Uh, quindi possiamo uscire da questo pozzo. Però mi sa che dobbiamo andare di qua. No, non mi fa andare. Nemmeno... Ah, no, però in realtà... Teoricamente posso passare di qua. Perché è un po'... È un po' aperta. Però non mi fa andare in alcun modo. Quindi mi sa di no. È come... Non vedo agganci. No, ma per forza di là bisogna andare. Però non capisco come. Forse così? No. Non mi fa passare. È strano perché... Sto provando in tutti i modi. Ma non mi fa andare. E non vedo altre vie. Peraltro noi siamo... In realtà ma noi siamo venuti da là. Quindi noi siamo venuti da lì. E quindi... Ah, ecco qui. Ecco qui. Io mi dimentico sempre che ovviamente l'ambientazione fa... Alquanto ci siamo capiti. Quindi... Quando vedo questi pezzi di muro... Che sono leggermente più bianchi... Vuol dire che io mi posso arrampicare... Su di loro. Ha promesso di vedere il signore. Quello che lui dice... Sì, ma lui dice salva il tesoro. E chi ha il tesoro? Beggin's Beggin. Ma sta parlando dello scuro, signore. Non è qui vero il cattivo infido Hobbit. Come possiamo proteggere il tesoro se questo lo ha? Sì, perché... Il Frodo in realtà non l'ha ancora incontrato. Quindi sta parlando dello scuro, signore. Quindi disauro. E adesso dovrei agganciarmi lì. La vedo difficile. Qua mi sa che cado. La vedo difficile. Salta all'indietro, ok. Ah, ecco perché c'è... Vabbè. Sempre le stesse cose, raga. Sempre le stesse cose. Non c'è niente di... Non c'è niente di nuovo. Le meccaniche sono sempre quelle. Qui c'è un... Un verme. Vabbè, qualcosa la mangiamo a questo punto. Vado che comunque abbiamo perso un po' di vita prima. Qui c'è altra... Altri... Agganci. Uno qua. Uno fuoco. Saliamo qua. Dobbiamo essere pazienti, mio caro. Dobbiamo essere molto, molto furbi. E siamo arrivati. No, non è... Non è il cielo. Che è? Che roba è? Qui anche salta indietro. Quindi mi sa che mi... Ah, ecco lì. Ok, perfetto. Le candele che non mi bruciano. Va bene. Il fuoco che non brucia. Mi sa che qua mi devo abbassare per passarci. No. Trovo un modo che c'è l'ascensore. Vabbè, sì. Già me l'hai detto. Ok, quindi siamo tornati all'interno. Essenzialmente abbiamo scalato il pozzo per arrivare più in alto. in questa... No, prima non eravamo qua. E che è Hitchcock? Che è sta musica all'improvviso? Ma la musica è forte comunque. È bella. È una delle cose migliori. Una delle poche cose buone di sto gioco. È la musica, la colonna sonora. L'hanno fatta col drone, questa. Ripresa col drone. Ma allora, tu mi stai mostrando l'ambiente. Quanto proprio quello fa schifo in questo gioco. Quindi questa ripresa col drone, eh. A cosa me serve? Non vedo più Gollu. Cioè, non vedo più me stesso. E quindi? Eh, ma scusa. Dov'è Gollu? Ah, mamma mia. Mamma mia! Dovevo fare un passo in più. Le candele fa... Che fra l'altro io mi chiedo, ma queste candele? Ma non sembrano cose che gli orchi userebbero questo tipo di candele. Sembrano le candele prese al centro commerciale. Le candele profumate. Allora. Vedo che lì c'è altro muro bianco. Quindi direi che posso agganciarmi lì. Proviamo. E ok, quindi scendiamo qui. Ok. Teoricamente dovrei agganciarmi adesso lì. Però ho paura perché qui, se non mi aggancio, cado. Proviamo a lasciarci andare leggermente. Non... Ah. Devo saltare, mi sa. Proviamo a saltare. No! Non intendevo saltare in quel modo, Gollum. Allora. Scendiamo qua. È ok. Oh! Stavo per cadere un'altra volta. Scusate, se non posso saltare lì... Lì mi dice, vedete? Ma... Porca miseria. Come faccio se non mi fa... Se non si aggancia lì? Su quel cornicione? Come faccio a scendere? A... A muovermi da lì? Ok, forse il gioco mi dice di nascondermi nelle ombre. Il problema è che una volta che mi sono nascosto nelle ombre non mi dice che cosa devo fare. Io credo che debba andare lì dentro. Ma come faccio ad andarci se mi devo nascondere nelle ombre? Se io mi muovo, lui mi vede. Quindi... Devo trovare un'alternativa. Non posso passare lì davanti. E nemmeno mi fa salire qua sopra. Non mi fa salire, però. E poi? E poi che faccio da qua? Lì non mi fa saltare. Fra, ecco, mi ha visto l'orco, ovviamente. Maledetto. E adesso se mi nascondo nelle ombre non vale più. Eh, giustamente. Infatti mi ha appeso e mi ha ammazzato. Allora, devo andare di là. Però lui, il gioco mi dice di là. Quindi a sinistra, non sotto il barco. Il gioco mi dice andare di là. Ah, se io vado di là... Ecco, mi ha visto. Ah, non mi ha visto. Non mi ha visto. Attenzione. Non mi ha visto. Però adesso devo salire in qualche modo. E ovviamente lui non riesce a salire. Che è un coglione. Allora. Niente. Non riesco a salire in alcun modo. Che poi ci sono delle corde. Perché non riesce a salire? Valla a capire. Come faccio? Allora, dove devo andare? Qui non ci sono delle ombre. Quindi qui rischio di farmi scoprire. Però io non riesco a capire dove devo andare. Ecco, si è agganciato a qualcosa. Oddio santo. Forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ragazzi, vi giuro che ho passato due ore. No, due ore no. Però ho buona mezz'ora a capire come cavolo fare. Come cavolo risolvere sto problema. Forse ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. Allora, il gioco è vero che ti dice di nasconderti nelle ombre. Però poi tu dici, ma come fa... Allora, se mi nascondi in quell'ombra, come fa l'orco a non vedermi? Che io sono andato alla fine da lì, mi sono spostato nell'ombra e l'orco non mi ha visto. Oh, sto orco è ciecato. Cioè, ma contro ogni logica sto gioco. Non è concepibile come l'hanno creato, come l'hanno pensato. Vabbè, comunque, andiamo avanti. E io che cercavo di aggrapparmi a quella cazzo di sporgenza, per mezz'ora ho cercato di aggrapparmi alle sporgenze. Perché sto gioco fa fare solo quello ti fa fare, sto gioco maledetto. Ti fa aggrappare le sporgenze del cazzo. È normale che tu cerchi sempre di fare quello. Anche quando ti dice, nasconditi nelle ombre. Comunque, scusate lo spuoco, ma... Mezz'ora di gioco, buttate praticamente, a cercare di capire che dovevo fare. Adesso, allora, penso che devo proseguire in questa direzione qua. Allora, dove mi aggancio? Qua? Va a capire dove mi devo agganciare. Là non mi posso agganciare. Lì vado di qua, qui non c'è niente. Quindi l'unica cosa a cui mi posso agganciare è quella specie di sporgenza. Però anche qua, non credo che posso farlo. Quindi... No! Mannaggia. No, mi ha visto. No! Maledetto! Sali sopra queste ca... Ah, ok, 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 fatto. Ok, mi sono salvato proprio in calcio d'angolo. Mangiamoci un pesce. Ma come mi fanno a vedere da qua, dai? Non mi possono vedere da qua. Vabbè, aspettiamo che... Ecco, sta scendendo l'attenzione. Quindi mi devo agganciare... No, una volta che mi sono agganciato là, no? E poi che faccio? Che devo fare una volta che mi sono agganciato là? Vai, è finita l'attenzione. Dai, andatevene a quel paese, tutti e due. Ecco. Questo sta ancora qua. Aspettiamo che si torna a posto suo. Niente, no, no, niente. Si sono spostati, monse. Ma rimarranno qui per sempre. Allora, il gioco mi dice di andare di là. Quindi mi aggancio a questa sporgenza. Teoricamente... Dovrei riuscirmi ad agganciare anche all'altra sporgenza. Ma ovviamente non me lo fa fare. Ci mancherebbe. Quindi qua che cosa dovrei fare? Fatemi capire. E ovviamente mi hanno visto. E mi hanno beccato pure. Ah, meno male che mi fa ricominciare da qua. Mi sento fortunato stavolta. Allora. Il gioco mi dice di andare di là. Per andare di là... Io non ho molte scelte. Oh, vado qua. A quelle sporgenze. Ovviamente non mi fa agganciare. Però comunque mi dice di andare di là. Ma non c'è un percorso in questa direzione. E nemmeno mi posso agganciare a niente. Forse mi devo agganciare a sti cosi. Proviamo. Tanto ormai... Ormai qualsiasi cosa mi posso aspettare. Ovviamente ci sta questo e mi ha preso. Ragazzi, io... Non... Io non metto in dubbio che io non sia... Questo gran giocatore. Questo gran videogiocatore. Però... Cazzarola. Cioè, non si può fare un gioco così. Ma forse... Forse devo fare così. E quindi? E quindi dove devo andare? Mi dici di andare di là? Ma che vuol dire di là? Lì ci sta il fuoco di là. Proviamo ad andare di qua. Quindi provo a carminargli ancora in testa. E mi lascio andare. Ok. E quindi adesso... Qui c'è un orco. Teoricamente gli devo passare per sopra. Questo non mi vede. Bah, vabbè. Io sto là sopra. Questo non mi vede. E ovviamente gli sono caduto proprio addosso. Ok ragazzi. Allora io ci provo l'ultima volta. Se non ci riusciamo. Lo rimandiamo la prossima volta. Perché sinceramente lo stress mi sta salendo. Bello. Importante. Quindi. Allora. Proviamo qui. Non vedo altro ragazzi. Io non vedo altro a cui mi agganciarmi là. Tra l'altro il gioco mi dice andare in quella direzione. Non in quella. Ma in realtà io credo che debba andare in quella direzione lì. Perché là non c'è niente. Là non c'è un percorso. Una cosa. Qui mi posso anche nascondere nell'ombra. Ma non serve a niente. Perché lì non posso andare a nessuna parte. Vedete che è tutto chiuso qua. Non penso che posso andare dire qua. Infatti lì non si può andare. E rischio solo di sommi scoprire. Quindi per forza qualche cosa qui devo fare. Ma come abbiamo visto non posso fare niente. Quindi che faccio? Oh corro. Forse mi devo agganciare qualcosa là. Ma cosa? Cosa posso mai agganciarmi qua? Non c'è niente qua. Ma maledizione. Maledetto sia questo gioco. Vabbè ragazzi allora. Io veramente non so che dire. Cioè io... Questo gioco porta all'esaurimento. Ok forse 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 posso agganciarmi qua. No ovviamente no. Mi sbagliavo. Non mi posso agganciare sto legname. Non posso agganciarmi da nessuna parte. Ed è palese che il gioco mi faccia andare... Mi voglia far andare qui. E poi... E poi che devo fa? Posso mai scappare? Puoi provare a scappare? Ehi ce ne sta un altro qua. Ovviamente mo' ma me ne ho beccato. Vabbè niente ragazzi niente. Allora... Che dirvi? Facciamo così. Aspetto dei vostri consigli. Non lo sopporto manco più che ripete sempre la stessa frase. Ragazzi l'ho sentita 20 volte sta frase. Ah di più 50. Allora. Aspetto i vostri consigli. Quindi scrivetevi i secondi... Ah aspettate. Aspettate. Aspettate che forse... Vediamo le scie qui. Dove mi dice di andare? Le scie fantasma. Mi dicono di andare. Proviamo a seguire le scie fantasma. Ma le scie fantasma spariscono poi lì. Quindi non è che... Non mi aiutano manco per il cavolo ovviamente. Perché poi le scie fantasma e spariscono. E niente. Non c'è alcun aiuto. Non mi dice assolutamente nulla. Fra l'altro quegli anelli lì sembrano fatti apposta per agganciarmi però. Niente. Poi mi dovranno spiegare come fa un orco a non vedermi da qua sopra. Però vabbè. Non fa niente. Io ragazzi io non so che dire. Perché le sto provando tutte. Le sto veramente provando tutte. Mi ci sto mettendo di impegno. Però non serve a nulla. Ok. Allora basta. Non ce la faccio più. Quindi andiamo al menu principale. Ragazzi allora fatemi sapere voi. Come posso risolvere quel punto lì. Io proverò ancora in futuro a registrarmi. Mentre cerco di risolvere. Però rischio veramente di diventare ripetitivo. Perché non riesco a comprendere bene quello che mi vuole dire il gioco. E come risolvere le varie problematiche che il gioco mi pone. Ripeto sarò io che non sono questo gran videogiocatore. Questo è poco ma sicuro. Però mi sembra che a volte il gioco non sia chiaro. Nelle cose che... Nello spiegarti. O comunque nel farti intuire. Cosa devi fare per riuscire da determinate situazioni. Proprio perché sempre lo stesso problema. L'ambiente non è chiaro. Non è reso come si deve. E dato che Gollum per risolvere i vari problemi. Deve gestire. Deve relazionarsi con l'ambiente che lo circonda. Diventa una frustrazione. Perché tu stai lì a tentare. A fare ogni tipo di tentativo. Sperando che ti vada bene. In questo caso io sono stato un'ora per cercare di raggiungere un cornicione. Che ovviamente non era giusto per il tentativo. Ma perché il gioco mi aveva detto di nascondersi nell'ombra. Però poi la freccia mi indicava di andare quasi sul cornicione. Neanche la freccia che ti doveva indicare doveva andare. Manco quella è corretta. E poi alla fine quando ho provato a nascondermi nelle ombre. Che non ha nemmeno senso perché l'orco stava a dieci passi. Ma è possibile che non vede un essere che sta camminando davanti a lui. Se non vedete perché si va a nascondere nell'ombra. Però vabbè. Sono riuscito a attraversare il primo punto. Il primo orco. Però adesso mi sono impallato sul secondo. Io lì sinceramente non riesco a capire come superarlo. Fra l'altro. Altro problema. Sapete qual è? Che questo gioco tira una sola via di uscita. Non te ne dà più. Cioè non è che poi. Magari se non usi la via di uscita del gioco. Il percorso del gioco. Tu puoi inventarti qualche altra cosa. No. Devi usare per forza quella. Quindi finquanto non intuisci qual è il modo giusto per uscire da quella situazione. Tu rimani impallato in quella situazione lì. Quindi io vi esorto a vi chiedo il favore di dirmi in quel punto se qualcuno di voi l'ha già superato. Come posso fare a superarlo. Quindi come superare il secondo orco in quel punto lì. Nella speranza che qualcuno con una buon'anima possa aiutarmi. Possa darmi una dritta. E la prossima volta io riesca a superare quel punto. Perché sinceramente non ci riesco. Magari proverò a fare le prossime volte. I prossimi episodi sono a registrarlo su Twitch. Magari qualcuno lì mi potrà aiutare. E niente. Da Frank è tutto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie.